Cresanova, grande giocatrizia Centro Boa che quest'anno ha fatto palikigoni insieme a Francisca Biancardi. Tanto come ti sei trovata qua all'Erici e con questo grande ambiente? Mi sono trovata molto bene, quindi la riconfermo sicura per l'anno prossimo. Ecco, prossimo anno, prossimo anno... Anzi, aspetta, mi sono trovata... Anzi, aspetta, mi sono trovata...